Approfondire temi legati alla sicurezza e delineare la strategia dell'arma che grazie alla sua presenza capillare è impegnata non solo nella lotta alla criminalità ma anche nella tutela di beni fondamentali come l'ambiente, il lavoro e la salute. Sono state le tematiche esaminate durante l'incontro tra il prefetto di Avellino, Rossana, Riflesso con i vertici del comando provinciale dei Carabinieri. Accolta dal colonnello Dominico Albanese dopo aver ricevuto gli onori dalla guardia schierata, il prefetto ha incontrato gli ufficiali della sede, i comandanti delle compagnie e una rappresentanza di tutti i reparti dell'arma che operano in provincia, inclusi i reparti speciali e il personale in congedo dell'Associazione Nazionale Carabinieri e Forestali. Il colonnello Albanese ha sottolineato il rapporto di collaborazione estaurato e l'efficacia nella risoluzione delle problematiche relative all'ordine pubblico. Sono stati illustrati anche i principali obiettivi su cui si concentrano le attività nei 118 comuni irpini, delle 67 stazioni e delle sette compagnie dei Carabinieri, del gruppo forestale e del nucleo Carabinieri Spettorato del Lavoro e Reparto Operativo della sezione di Polizia Giudiziaria. Nel suo intervento il prefetto ha alloggiato il quotidiano impegno dei Carabinieri a sostegno della cittadinanza, invitandoli a continuare a promuovere i valori etici rappresentati dal motto Nei secoli fedele e ha rivolto un particolare applauso per il contributo dell'arma alla riuscita del G7 dei ministri dell'interno che si è tenuta a mirabel e clavo. Durante la visita ai vari locali della caserma il prefetto si è soffermato presso la stanza tutta per sé, lo spazio di ascolto realizzato per l'accoglienza delle persone vittime di azioni riconducibili al codice russo. Il prefetto Rossana Riflesso ha consegnato riconoscimenti a quattro militari del comando provinciale di Avellino, particolarmente distintisi in recenti attività di servizio per merito di lungo comando.